Per ricevere buone notizie dal mio doctore un po' di giorni fa. Durante questo periodo difficile della mia vita non avrei potuto essere più supportato, grazie al mio club Benetton Rugby, ai miei allenatori, alla proprietà e a tutti i miei compagni di squadra. Proprio i compagni di squadra si erano prodigati per lui, arrivando a tagliarsi a zero i capelli in segno di solidarietà, nel periodo in cui la chemioterapia lo stava debilitando al punto da perdere i capelli. Questa esperienza segnerà la mia vita per sempre e non dimenticherò mai tutto ciò che avete fatto per me. Vi sono riconoscente e spero di tornare presto in campo.